fratelli rossoneri non vedevo l'ora di finire di lavorare per poter fare questo video nel quale dico è fatta ragazzi è fatta christian pulisic è un nuovo giocatore del milan si tratta solo di accordarsi sui bonus ma ormai è roba fatta per dirvi che comunque non c'è l'ufficialità ma ormai ne parlano tutti è fatta è fatta è fatta e tutti ne sono stra stra sicuri 4 milioni all'anno per lui per quattro anni 20 milioni al celsi e il il patto tra il milan e pulisic è fatto ragazzi io sono contentissimo perché nel carnet del di questi giocatori papabili che il milan deve prendere sinceramente era quello che a me piaceva di più poi voi potete dirmi quello che volete ce ne sono di meglio tra questi quattro può essere però per il mio gusto personale pulisic veramente rispecchia il tipo di giocatore che a me piace tantissimo io lo guardavo anche durante le cronache in live dei mondiali trascorsi e non ci crederete ma io l'ho pensato questo è un giocatore che a me piacerebbe vedere nel milan ed eccomi accontentato meno male dai meno male una cosa veramente bella è stata fatta dal milan sono veramente contento dopo qualche delusione finalmente qualcosa si sta si sta vedendo di concreto sono molto molto contento adesso ragazzi ci manca reinders e ci manca ciucuese camada quanto pare ormai si è allontanato questo mi fa pensare che ci sarà spero e credo un all in su ciucuese che è il giocatore che serve tantissimo al milan per la fascia destra è un altro centrocampista ci vuole assolutamente quindi penso che anzi come dicevo in alcuni short che al 95 per cento arrivava sia pulisic che che renders ho tardato di un giorno per pulisic probabilmente tarderò di due giorni per renders spero quello che spero ecco che lunedì visto che si sa il raduno a milanello che ci sia anche lui intendo renders comunque un giocatore veramente che se sta bene torno a parlare di pulisic un giocatore che se sta bene può fare la differenza in campo un giocatore che qualche anno fa ragazzi è stato pagato se non sbaglio 65 milioni dal Borussia Dortmund quindi insomma non è non è un giocatore di secondo livello anzi di primissimo livello e averlo preso a 20 milioni secondo me è una buona cosa ovviamente poi il campo sbugiarderà o confermerà questa questa cosa ma io dico che è un giocatore che se va bene ci farà ci farà veramente divertire ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate poi questa sera spero di riuscire a metterlo su subito questo video comunque vi dico che questa sera 21 e 30 sono sul canale di dell'urlo milanista 2.0 insieme a marietto della tribù rossonera faremo una bella live insieme la prima del nuovo canale di ale lo stroppa e quindi intervenite numerosi parleremo soprattutto di questa cosa qua dell'arrivo di pulisi che visto che è fresca fresca ma di tanto altro iscrivetevi a tutti e tre canali e niente ragazzi sono contento dai spero di sentirvi di sentire i vostri commenti e spero di darvi altre notizie belle come quella di oggi anche domani vi auguro una buona serata ci vediamo dopo ciao ragazzi